Ben trovati, ci troviamo davanti al liceo Formigini di Sassuolo dove sono in corso, si stanno concludendo adesso le prove del primo giorno di maturità, quindi il tema di italiano, la prova ministeriale. Durante questo servizio andremo a vedere le reazioni dei ragazzi all'uscita dal tema sia al liceo sia in altre scuole della città. Cominciamo con il liceo scientifico, come è andato il tema, cosa avete scelto, erano le tracce che vi aspettavate o avete fatto un po' fatica a scegliere? Io ho scelto il saggio breve come sempre nei tre anni dell'ultimo triennio e ho scelto la tipologia tecnico-scientifica, sinceramente dalle tracce non mi aspetto molto perché tutti gli anni sono sempre molto difficili e a volte divergono un po' dagli argomenti che si trattano a scuola, però più o meno ci si riusciva a divincolare un po' in ognuna di queste, bisogna scegliere ovviamente la prova più adatta a sé. Anche io ho scelto breve e sempre l'ambito tecnico-scientifico e diciamo che le tracce erano più o meno tutte fattibili, dipendeva poi dalle nostre conoscenze personali, anche io ho scelto quella più adatta a me perché tutti gli anni scarto, cioè nelle prove che abbiamo fatto scarto sempre quell'artistico-letteraria che sicuro per me non va bene e niente, erano abbastanza fattibili comunque. La tensione è sicuramente tanta, però un po' si è allentata e alla fine questa maturità che avete atteso per tanto tempo è arrivata, però siete al primo dei passaggi, ci sono ancora diverse prove, qual è quella che vi preoccupa di più? Personalmente la terza prova e l'orale sono sullo stesso livello come preoccupazione perché nell'orale dover parlare direttamente e non avere tanto il tempo per ragionare come negli scritti penalizza molto, però allo stesso tempo la terza prova è quella probabilmente più difficile perché può capitare qualsiasi cosa, quindi certamente sono quelle che almeno io vedo più dure. Io concordo, quella più dura per me è l'orale in assoluto, un po' perché sei lì che ti devi interfacciare direttamente con i professori, ma anche la terza prova perché hai una domanda per materia e se ti capita proprio la cosa che magari non sai e non hai ripassato, rischi di lasciare una domanda in bianco. Chiedo un'ultima cosa, finita la maturità, a parte andare in vacanza, che cosa farete? Probabilmente fisica qui a Modena che ha un'ottima facoltà, ma comunque in generale se non dovesse andare bene quella col tempo lo capirò, ma sceglierò sicuramente un altro indirizzo di carattere scientifico perché è quello più adatto a me. Io chimica sempre qui a Modena, sicura. Un'analisi se doveste dirmi in dieci parole un resoconto di questi cinque anni al liceo Formiggini. Duri, durissimi. Sono stati molto complicati perché insomma qua al liceo Formiggini i professori non lasciano niente al caso e pretendono tanto, soprattutto quando si passa dal secondo al terzo anno, ma sono sicuramente gli anni più belli secondo me perché coincidono con l'adolescenza e gli anni in cui sia dentro che fuori dalla classe ci si diverte di più. Sicuramente sono molto duri, però ripensando a quando eri in prima, rifare sicuramente il liceo, anche se ho studiato come una matta per questi cinque anni, però li rifare comunque perché alla fine sono belli, cioè ricordo dei professori, insomma ti lascio un po' lì, però alla fine è bello ricordare gli amici ai cinque anni. Di scientifico la prova vera è domani, ma intanto oggi si è fatto il tema. Esatto, esatto, quella difficile è domani, vediamo. Io ho scelto articolo di giornale, ho fatto la tipologia 3, cioè il terzo quello è politico storico, parlava del paesaggio, mi è piaciuto, ho trovato una traccia che mi è piaciuta finalmente e direi che sia andato discretamente bene, speriamo. Anch'io l'ho trovato abbastanza fattibile questa volta, ho scelto l'ambito artistico letterario, ho fatto un saggio breve come al solito e spero sia andato bene. Domani c'è matematica, ma manteniamo il silenzio stampa su questo argomento direi, perché c'è un'ansia che immagino si tagli col coltello, passiamo invece a quello che verrà dopo, dopo questa maturità. Ah, è futuro? Non lo so ancora, cioè ho qualche idea, ma i test sono tutti a settembre, quindi devo fare un pochino il punto della situazione, vedo, mi concentro prima sulla maturità, poi vedo qualche idea, ma non so ancora bene, sono diverse l'una dall'altra. Ah, io invece ho dato l'esame per economia e commercio in inglese e aspetto i risultati il 7 di luglio, e mal che vada, cioè spero vada bene sinceramente, poi dovrò dare un altro colloquio e sperare di essere presa, insomma. Si chiudono 5 anni, se doveste dirmi due cose che siete contenti di lasciare nel vostro passato e due che invece vi mancheranno molto? Allora, due che mi mancheranno molto, vabbè, i compagni di classe sicuramente e l'atmosfera in classe, ma penso sia la stessa cosa. Puoi dirne un'altra. Un'altra? Che mi mancherà? Sì. Ma se dicessi professori, magari tutti, tutti, non lo so. Vabbè, invece una cosa che vorrei lasciare via, proprio è lo studio e lo stress che ci hanno lasciato in questi 5 anni e invece terrei volentieri i compagni di classe, insomma il clima, anche insomma la competizione che c'è stata in questi 5 anni è stata utile per crescere tutti insieme. Classico e scientifico, però il tempo non è ancora scaduto e voi siete già fuori, il tema l'avete già finito, cosa avete scelto? Evidentemente è andato bene. Beh, allora, adesso aspettiamo i risultati per vedere se è andato bene, no, alla fine ho scelto tipologia B, saggio breve e il valore del paesaggio, quindi era di ambito storico politico, no, è andato, penso sia andato, comunque, di sicuro spero decentemente, però è andato abbastanza bene perché c'erano delle varie tracce che erano anche di tipo artistico, a me piace molto l'architettura e c'entrava con l'argomento, quindi ho anche approfondito mie esperienze personali o comunque studi personali. Io ho scelto anche la tipologia B, saggio breve, però ambito tecnico-scientifico e ho comunque parlato dello spazio che è infinito e soprattutto ho appunto approfondito la Samantha Cristoforetti che è andata nello spazio e spero anch'io che sia andato bene, ma non lo so. Allora, domani ci sono due prove molto importanti, per te e matematica, per te? Greco. Preferivi greco o latino? Preferivo latino di gran lunga, visto che è greco, è l'unica materia in cui diciamo non vado abbastanza bene, ma si farà e basta, alla fine è uscito greco, si deve fare greco. E matematica si prega, come si fa di solito in questi giorni? Sì, si prega, si prega tanto, si sarebbe pregato lo stesso anche per fisica. Matematica vediamo domani, speriamo che i prof siano buoni e niente. Dopo ci sarà la terza prova, che quella è la prova dei vostri docenti, quindi forse siete un po' più tranquilli, anche se essendo a sorpresa forse non molto, e poi arrivano gli orali. Dopo gli orali, a parte andare al mare? A parte andare al mare, subito dopo proverò a entrare a design del prodotto industriale, che è a Bologna, e abbiamo l'esame a luglio, o se non passo lì, visto che abbiamo poco tempo, ovviamente, dopo gli orali, per studiare, proverò a settembre architettura o ingegneria ambientale sempre a Bologna. Io invece, dopo il mare, tutto così, provo medicina, che c'è il 6 di settembre, e se non entro a medicina penso di andare un anno a Londra con mio cugino per approfondire l'inglese e poi magari lì trovare la mia strada. Un'ultima cosa, rifareste tutto quello che avete fatto in questi cinque anni o avete capito di aver sbagliato strada e quindi magari avete faticato talmente tanto che non vorreste tornare a fare le stesse cose? No, faticato ho faticato veramente, veramente tanto. Lo rifarei perché quello che mi dà il liceo classico penso che, oltre al liceo scientifico, non diano altre scuole, non è tanto per presunzione, ma è per la portata di studio e come ti insegnano ad approcciarti a tutte le materie, che non siano solo di ambito scolastico, comunque approcciarti alla vita e penso che sia molto importante e che sia stato faticoso. Allora, io rifarei poche esperienze perché io ho vissuto la scuola un po' diciamo arrancando, sempre un po' col respiro qua, però no, lo rifarei perché comunque la classe mi è piaciuta e i professori sono sempre stati, anche se non sembra, dalla mia parte, mi hanno aiutato e quindi rifarei l'esperienza del liceo perché comunque mi ha fatto crescere anche, come ha detto lei, nel mio percorso di vita ho qualcosa grazie a questo. Liceo classico, il tema è la prova più importante, cosa hai scelto? Ho scelto la prima traccia, l'ambito artistico-letterario e è stata un po' difficile da iniziare a fare, più che altro perché c'erano dei dipinti e c'era una poesia di Saba, ma dopo un po' l'ho svolta. Domani la prova di Greco, che è quella forse che preoccupa un po' di più? Eh sì perché, almeno io personalmente non sono esattamente una cima in greco, quindi sono un po' preoccupata, ma vabbè, la affronteremo, speriamo che non sia troppo, insomma, difficile. Dopo le altre due prove, quindi la terza prova è l'orale, che cosa c'è nel tuo futuro? Molto probabilmente giurisprudenza a Modena, però non lo so ancora, sono indecisa, adesso dovrò decidere. Ti chiedo una cosa, dopo cinque anni di liceo classico, se dovessi guardarti indietro e dire se hai fatto una scelta, che rifaresti oppure no, quale sarebbe la tua risposta? No, la rifarei sicuramente, anche perché secondo me mi ha dato delle cose che, non lo so, non so dire se gli altri corsi saranno in grado di avere, metodo di studio, poi le materie mi sono piaciute molto, quindi sì, dai, lo rifarei, anche se è molto difficile. E se dovessi dirmi invece che cosa ti mancherà di più di questi cinque anni? Non lo so, forse non c'è una cosa che mi mancherà in particolare, almeno ora non lo so, forse tra qualche mese quando sarò all'università ci sarà qualcosa che mi mancherà. Formigini, linguistico, prima prova di maturità, com'è andata, cosa avete scelto? Allora, è andata benino, ho scelto il saggio breve e artistico, quindi pensavo delle tracce un po' migliori, però abbiamo preso quello che ci è andato e ce la siamo cavata. No, io ho scelto l'analisi del testo Umberto Eco, un po' difficile ma si faceva, e sì, le tracce le ho lasciate un po' desiderare, però vabbè, si è fatta tranquillamente. Umberto Eco non te l'aspettavi in analisi però? Sì, sì, Umberto Eco sì me l'aspettavo, un po' sì, però insomma pensavo qualcosa di un po' più fattibile, ecco. Domani c'è la prova di indirizzo, per voi è? Inglese. Preoccupati? No, non tanto, ci hanno preparati abbastanza bene e è quella su cui puntiamo di più. Lo scoglio è lunedì? Sì, esatto, lunedì ci sarà l'inferno, ma vabbè, ci si prepara come si deve e si tenta di fare il meglio. Dopo la maturità cosa c'è nel vostro futuro? Viaggio con gli amici di sicuro e poi si pensa con calma all'università. Viaggio con gli amici e poi via con l'università. Cosa? Lingue. Medicina. Ho scelto l'analisi del testo e penso sia andata abbastanza bene, era Umberto Eco, era un po' difficile, però mi sono trovato abbastanza bene, ero contento, al fine. Io invece ho scelto stagio breve di ambito tecnico-scientifico e parlava dell'uomo e lo spazio e sono andata a esclusione perché non mi piacevano le trance, quindi sono stata un'ora a decidere. Anche quella è una tecnica, però non è ancora finito il tempo, sei già fuori, quindi vuol dire che poi hai saputo anche cosa scrive. Sì, 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 quello sì. Domani c'è una prova importante, ma la saltiamo, non ne parliamo, non ne parliamo, parliamo invece di questi cinque anni che avete passato qua. Quando si arriva alla maturità si fa un po' un bilancio, un po' un'analisi. Se doveste fare un'analisi retrospettiva di questi cinque anni, cosa direste? Direi che ho scelto bene il corso, mi sono trovato molto bene, sia con la classe che con le materie, i professori, sono stato molto contento e se dovessi tornare indietro risceglierei di nuovo il leccio linguistico, mi sono trovato davvero molto bene. Sì, posso dire esattamente le stesse cose che ha detto lui, è stato un percorso molto bello e scelto bene. Un'ultima cosa anche per voi, cosa c'è nel vostro futuro dal giorno dell'orale in avanti? Allora, estate, state tranquilla al mare con gli amici e poi Università a Cesena, Psicologia. Relax al mare con gli amici e poi Farmacia, l'Università di Farmacia Modena, se riesco a entrare, se no lingue. Sì, il tema è andato discretamente, le tracce personalmente non erano molto belle, magari erano interessanti per chi era esperto di determinati argomenti, quindi io non ho trovato proprio il tema che facesse per me, comunque è andato. Sì, anch'io non è che ho trovato le tracce molto belle, mettiamola così, erano un po' difficili e personalmente non sapevo bene cosa dire, però ne ho trovata uno, ho fatto il tema storico e alla fine direi che è andato abbastanza bene. Domani c'è la prova di indirizzo, poi ci sarà la terza prova e poi l'orale, cosa vi preoccupa di più? Terza prova, assolutamente, perché ci vuole molto studio e quindi quella è lo scoglio principale. Sì, anch'io terza prova e poi subito dopo l'orale, perché comunque mette sempre un po' d'ansia per tutti i prof davanti. Dopo la maturità che cosa farete? Io voglio fare criminologia e a Forlì. Io vorrei fare scienze della comunicazione. Un'ultima cosa, se doveste dare un bilancio di questi cinque anni di scuola superiore, che cosa vi mancherà di più, che cosa invece lasciate volentieri? Mancheranno sicuramente alcuni prof, che era sempre piacevole vedere, lasceremo volentieri altri prof e altre materie, diciamo. Beh, a me mancheranno anche i compagni, comunque diciamo l'ambiente scolastico, non mi mancheranno né le interrogazioni né le verifiche, mettiamola così. Ragazzi, la prima prova è andata. Come è andata e cosa avete scelto? È andata bene, ho scelto il rapporto tra padre e figlio, ambito artistico-letterario. E dai, è andata, è andata bene. Anch'io ho scelto quella, il rapporto padre-figlio, ho fatto l'articolo di giornale e spero sia andata bene. Ho scelto il rapporto padre-figlio e anch'io, ho scelto l'articolo di giornale, è stato abbastanza curioso, però sì, in base alle nostre competenze penso che ce la siamo cavata alla grande. E proprio sulle vostre competenze invece verterà la prova di domani, scienze umane. Tensione? Tantissima, abbastanza. Tanta, 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 però ci si prova, ce la potremmo fare. Faccio una domanda abbastanza classica, finita la maturità, cosa farete da grandi? Io andrò a fare ostetricia. Io infermieristica. Fisioterapia. Tutti in ambito sanitario e guardandovi alle spalle questi cinque anni di liceo, come sono stati? Cosa vi mancherà e cosa invece siete contenti di lasciare? È stato un percorso di crescita e ci sono docenti che non lasceresti mai, altri che abbandoneresti alla prima svolta. Ho imparato un sacco di cose, ci sono stati periodi brutti, però lo rifarei subito, cioè ripartirei dalla prima in questo momento. Io sono cresciuta molto, mi sento anche cambiata, non solo esteriormente ma proprio interiormente. e probabilmente non risceglierei questa scuola, ma lo stesso indirizzo sicuramente. Tanta ansia, però anche tanta felicità, perché comunque penso sia un percorso di crescita continua, anche oltre intellettuale, anche personale proprio. E sì, ripartirei da zero e magari tralasciando qualche docente, però del resto fiera, molto fiera. È andato bene, le tracce erano molto interessanti, un po' erano anche prevedibili alcune, soprattutto quella sul confine degli immigrati, però le altre erano abbastanza innovative, e comunque molto interessanti. Adesso ci saranno le prove, quelle di indirizzo domani, e poi la terza prova, poi l'orale. Cos'è che ti preoccupa di più? Mi preoccupa molto la terza prova, soprattutto perché non sappiamo bene quali materie ci saranno, se c'è storia o filosofia, e se anche c'è latino oppure fisica. Però comunque speriamo il meglio per domani, invece in teoria abbiamo studiato tutto l'anno, quindi si spera comunque che vada bene, poi speriamo in una traccia fattibile. Un'ultima cosa, cosa c'è nel tuo futuro dopo questo passo, questo scoglio importante che è l'esame di maturità? Io spero di entrare alla dietistica, che è a numero chiuso e ci sono pochi posti, quindi un po' un turn all'otto, se no ho scienze della formazione, che comunque ho studiato tutti i cinque anni per questo, quindi si spera di farcela. Questo significa che il percorso ti è piaciuto? Perché se vuoi continuare su quella strada? Sì, sì, il percorso mi è piaciuto molto, lo rifarei mille volte, quindi sono proprio contenta. L'Istituto Baggi, prima prova della maturità, il tema, cosa avete scelto e com'è andata? Allora io ho scelto Saggio Breve, la tipologia socio-economico, perché è anche inerente con il corso che faccio, e diciamo secondo me è andata abbastanza bene, però poi vedremo alla fine i risultati. Io ho scelto il tema sul Saggio Breve, ovviamente, e ho scelto il tema sull'ambiente, perché lo ritengo un tema molto importante per salvaguardare il nostro ambiente in Italia. Geometra, corso geometra, anche tu cosa hai scelto? Anche io ho scelto l'ambiente, come lui, proprio perché sono un geometra e comunque siamo attenti, diciamo, alle energie rinnovabili, alla sostenibilità, anche io ho scelto l'ambiente. Domani ci sono le prove di indirizzo, quindi una delle materie di indirizzo che è stata scelta già da qualche mese. Che cosa sarà e quanto siete preoccupati per questa prova? Allora, per me e lui che siamo in classe insieme sarà economia aziendale. È una prova, secondo me, a mio parere abbastanza difficile. Vabbè, non la conosciamo ancora, però secondo me sarà così. E speriamo che il Ministero sia stato buono con noi. Sì, ritengo ancora... Speriamo che innanzitutto esca il bilancio, nel più fortunato dei casi, e soprattutto che le questioni a scelta, le domande a scelta, siano relativamente facili e non impossibili. Noi invece è uscita costruzioni, cioè la progettazione appunto di ambienti, tipo circoli ricreativi, e secondo me non è difficilissima, però si dovrà vedere. Un'ultima cosa, dopo tutte queste prove, la maturità che avete tanto aspettato e tanto temuto finirà, che cosa verrà dopo? Allora, vabbè, dopo le vacanze chiaramente, poi dopo io personalmente continuerò a studiare l'università, gli altri, anche lui probabilmente, vedremo se andremo in università insieme, comunque così. A fare cosa? Andiamo a fare, in teoria, economia aziendale, dopo ovviamente le vacanze, grande relax, ma ovviamente attenti perché c'è uno studio pre-università per l'ingresso. Per quanto invece riguarda te? Anche io penso di andare a fare economia, non c'entra niente però col mio ambito, però comunque mi piace e penso che sarà interessante, cioè spero. Ultima cosa, rifareste questi cinque anni dall'inizio uguali o vorreste cambiare qualcosa o non ne vorreste proprio più sapere? No, io comunque sono felice dei cinque anni che ho fatto, ho conosciuto tanti amici, quindi mi ritengo soddisfatto così. No, anch'io ritengo che il Baggi sia un'ottima scuola, in alcuni punti del corso, in alcuni anni, si è affrontato dei periodi di alto e basso, ma un'ottima scuola che ti forma anche per l'università. Sono d'accordo con loro e io li rifarei cinque anni, magari cambierei corso, andrei a farlo economico, però rifarei cinque anni al Baggi. Direi abbastanza bene, spero. Cosa hai scelto? Saggio breve, socio-economico. Idem, saggio breve. Domani la prova di indirizzo, cosa vi aspettate? Una prova sicuramente difficile, quanto siete preoccupate? Beh, inglese, una comprensione, speriamo che... da studiare, non c'è molto da studiare, quindi speriamo che sia facile. Sì, è una comprensione lingua, poi bisognerà fare una lettra, quindi non ci vuole del gran studio, speriamo che la traccia comunque sia semplice, che si riesca a fare e poi vedremo. Terza prova è sempre uno scoglio e anche l'orale un po' di preoccupazione la mette sempre. Eh sì, per forza, anche perché abbiamo scoperto oggi che siamo la prima classe mentre dovevamo essere la seconda, quindi abbiamo ancora meno tempo adesso per studiare. Si chiude però un ciclo, quando si arriva alla maturità, finiscono cinque anni di scuola superiore, la maturità è sempre stata un po' un faro là davanti, adesso l'avete raggiunto, lo state per superare, dopo che cosa farete? Forse l'università, ancora non lo so. Che cosa? Volevo fare business economics. Idem, si chiude, sì, un ciclo di cinque anni, si spera anche perché non se ne può più, dopo la maturità bisogna vedere, scegliere con attenzione una facoltà che comunque ci piaccia. Io sono per marketing, sempre. E in questi cinque anni, in questa scuola, che cosa vi mancherà di più secondo voi? La mia profe di italiano. A me sinceramente niente, a parte i compagni, i professori e poi basta. Noi, i compagni. Nella classe è un po' così la nostra, quindi i miei compagni, solo le mie amiche. Volta, corso di elettronica, com'è andato il tema, la prima prova della maturità di quest'anno? Abbastanza bene, ho trovato una traccia che è riuscita ad ispirarmi, ho scelto un saggio breve, socio economico, parlava del PIL in relazione all'ossicità e sono trovato abbastanza bene. Sì, il più era trovare, diciamo, quel saggio che ti riuscissi a prendere. Io ho fortunatamente trovato quello dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, che mi ha preso ed è venuto fuori un bel tema. Domani c'è la prova d'indirizzo, che è quella sempre più temuta un po' in tutte le scuole durante la maturità. Da voi sapete già di che cosa si tratta, quale sarà l'argomento e quant'è la tensione? Allora, l'argomento elettronica, la tensione non troppo elevata, diciamo, perché ci siamo preparati abbastanza bene. Abbiamo più paura per la terza prova. Io invece per la seconda prova ho parecchio paura, però diciamo che la si fa. Un'ultima cosa, finito l'orale, passata la terza prova, finito l'orale, arriverà questa beata maturità. Dopo che cosa c'è nel vostro futuro? Io pensavo di fare un periodo in Inghilterra per imparare e approfondire la lingua e poi iscrivermi a Economia e Finanza. Io cercherò da lavorare e pensavo anche io come lui di fare un periodo in Inghilterra per più che altro esperienza personale e imparare l'inglese meglio. Un'ultima cosa, dopo cinque anni in questa scuola, di solito durante cinque anni la si odia, come sempre, perché uno non vorrebbe venirci, però alla fine adesso si chiude questo cerchio. Qual è un po' il giudizio riguardandovi alle spalle? È difficile, allora, si parte che siamo bimbi alla fine, che abbiamo 14-15 anni, quando si arriva alla fine a 18 anni, 19, si capisce alla fine quanto si è maturato durante questo percorso, quante cose si è imparato e alla fine si riescono ad apprezzare anche quei momenti difficili di tensione, tutte le ore passate su libri a studiare, che alla fine ti danno una preparazione per buttarti nel mondo del lavoro, chi vorrà lavorare o prepararti all'università. Anch'io penso che comunque quando si inizia ad andare agli superiori si è molto bambini e di conseguenza si va un po' più per le amicizie e quant'altro. Fin dei conti se becchi l'indirizzo che fa per te, di esperienza personale, te ne fai, l'unica cosa che penso è che mi mancherà molto l'avere l'approccio con gli amici e quant'altro che c'è qua, piuttosto che quello lavorativo che è molto più impegnativo ed è assolutamente diverso. Don Magnani, corso serale, ragazzi, primo giorno di maturità, avete appena fatto il tema, che traccia avete scelto e com'è andata? Io ho scelto la tipologia D, quella di ordinamento generale e ho scelto di far quella perché nelle altre non ero molto ferrato, comunque penso abbastanza bene. Ho scelto il saggio breve storico-politico, sono andata bene, basta. Anche io, come lui, ambito storico-politico, sì, nella norma, abbastanza buono come tema. Per le prove di domani, di lunedì e poi per gli orali, la tensione quant'è? È abbastanza alta, comunque abbiamo il manuale che ci darà una mano. Anche secondo me sono abbastanza tranquillo. Sì, ho una tranquillità abbastanza buona. Un corso serale non si può chiedere cosa farete dopo, cosa tornerete o continuerete a fare e cosa pensate vi possa dare in più questa maturità? Vabbè, sicuramente io ho un lavoro più vicino a casa. Ci vedrà, intanto da scoprire. Mi piacerebbe entrare in ceramica, lavorare in ceramica, qualcosa di più, con uno stipendio un po' più bellino.